ciao volevo avvertirvi che già dallo scorso video ho rimesso a disposizione la mia vecchia wishlist di amazon che avevo creato lo scorso anno in occasione del mio compleanno dalla scorsa volta appunto fino a pasqua la troverete sotto ogni video nel caso in cui aveste voglia di farmi un regalo non è assolutamente obbligatorio e non si vince niente se non che quando mi dovesse arrivare qualcosa farò la video reazione e le metterò tutte insieme vi chiedo di saltare però l'arredamento perché non vivo ancora da solo e non saprei dove mettere gli articoli di arredamento grazie e vi lascio il video ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video torniamo con un tag molto particolare come avrete potuto leggere dal nome che è stato creato da am vale official per capire di cosa si tratta iniziamo subito con le domande quando inventi solitamente tag o ti vengono in mente non c'è un momento preciso nel senso che ad esempio i due tag che ho inventato sono venuti uno perché si doveva trattare di una collaborazione l'altro andando per esclusione ma ne parliamo dopo quanto ci impieghi a crearli beh presupponendo che si tratti di argomenti che conosco poco diciamo un'oretta al massimo il tempo di elaborare delle domande carine forse anche meno lo scopo di creare tag spero che non sentiate eccessivamente il cane perché non è mio a mio parere lo scopo è quello di conoscersi meglio e spero che non solo le due che taggerò alla fine ma anche altre persone che dovessero vedere questo tag lo rifacciano un tag che avresti voluto creare ma esiste già esiste già il tag su harry potter quindi quindi io non ho creato un ulteriore tag su harry potter ma dopo parliamo dei miei perché già esiste un'idea che già avevi ma hai lasciato perdere perché fatto da altri idem come sopra il tag su harry potter perché già esiste sei soddisfatto dei tuoi tag beh devo dire abbastanza ne ho creato uno completamente da solo il fantastic beast aware to find them tag cioè animali fantastici e dove trovarli tag che ha rifatto una sola persona che poi ha cancellato il canale quindi io adesso ve lo cerco e ve lo metto nelle schede in questo punto il secondo tag invece non l'ho creato da solo e diciamolo diciamolo l'abbiamo creato io e il mondo di mari che ai tempi non ricordo se si chiamasse già il mondo di mari o se avesse ancora un altro nome ma ci sono state tante persone anche una youtuber abbastanza famosa di cui non farò il nome se volete me lo chiedete in privato che non lo hanno scritto nel nel titolo e si sono tringerate dietro al fatto che lo diciamo nel video per non parlare poi di quelli che non l'hanno detto affatto appunto senza straparlare il tag che abbiamo creato con maride il mondo di mari e il pizza tag e vi metterò in questo punto come ho fatto per quello di prima la mia la mia versione e sono più contento intanto perché è stato arricchito da mari con alcune conoscenze sulla pizza che io non avevo perché io me la mangio e poi perché è stato replicato da tante persone peccato appunto per qualcuno che insomma vabbè cosa apprezzi o non sopporti di chi rifà i tag ideati da te apprezzo di essere menzionato e poi c'è un'altra possibilità però questo non la ritengo obbligatoria mi piacerebbe che quando una persona rifà uno dei miei tag venisse sotto ai miei video dirmi o guarda che l'ho fatto se ti fa piacere confrontare le tue risposte con le mie ore ben felice non sopporto quando la gente dice è ho visto questo tag da xy z ma non so chi l'ha creato tesoro ma utilizzare i motori di ricerca di youtube è fatica di molto stai progettando un nuovo tag per il futuro se sì e se ti fidi dei tuoi colleghi ci spiegheresti cosa hai in mente non spiego nulla non perché io non mi fidi bensì perché io non bensì perché non ho nessuna idea in mente in questo momento quindi quindi non saprei cosa spiegarvi tag a qualcuno che consideri bravo nel creare tag o a cui piaccia crearli certamente se faccio un tag vuol dire che mi piace perciò taggerò due creatrici di tag di cui me ne è piaciuto almeno uno non solo uno almeno uno vorrei vedere questo tag rifatto dalla mia amica Sontina F che mi segue da tantissimo e da una nuova amica che è arrivata da relativamente poco tempo che è Antonella del canale consigli di Antonella di cui in futuro farò un tag però non dico quale io spero che siate arrivati fino alla fine del video che vi sia piaciuto che vi iscriverete qualora non siate ancora iscritti vi chiedo per favore di aiutarmi a condividere il video ricordandovi che dal 2 aprile le community di google plus saranno chiuse vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao